Parliamo di un appuntamento super imminente, ovvero domani sera, 18 maggio, e ragazzi è una notte importantissima, una notte europea dei musei, una notte molto importante dove ci saranno eventi, visite, possibilità davvero di non solo stare insieme, ma di poter ammirare e gustare quella che è l'arte, la cultura e insieme ovviamente la musica e la danza, addirittura anche una super sfilata di moda, ma questo parlerà subito il mio salotto, ovviamente ringrazio tantissimo per essere qui, Cristiana Zanasi, curatrice di tantissime iniziative, proprio in questo caso, soprattutto museali del Museo Civico, grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie a Monica Ratti, critica di danza, operatrice culturale, direzione artistica, spettacoli di danza. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Milena Bertacchini, responsabile del Museo Universitario Gemma, museo tra l'altro mineralogico e geologico dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Allora, grazie. Avete capito ragazzi, musica, danza, addirittura le gemme che diventeranno poi abiti e vestiti. Cristiana, partiamo subito, dai, ricordando l'importanza e l'appuntamento sempre molto atteso di questa Notte Europea dei Musei. Sì, la Notte Europea dei Musei è stata istituita dal Ministero della Cultura francese nel 2005. È una notte che unisce tutti i musei dei paesi europei con un'apertura nella tarda serata e nella notte. Insomma, quindi è un ulteriore motivo di unione e di condivisione attraverso la cultura. Quest'anno, peraltro, coincide con l'International Museum Day istituito da ICOM, che è sempre appunto il 18 maggio. E quindi si amplifica anche l'importanza di questa manifestazione. Ecco, una varietà e una vastità sicuramente di offerte culturali che voi proponete. Sì, sì, diciamo che per il terzo anno la manifestazione modenese è all'insegna della danza, che accompagna le iniziative culturali, ma poi ne parlerà Monica Ratti. Ma non c'è solo la sinergia fra danza e cultura, ma c'è la sinergia fra gli istituti culturali della città. Gli istituti culturali della città che hanno una caratteristica di multidisciplinarietà e di vastità e la Notte dei Musei è un'occasione per condividere la consapevolezza di quanto può soffrire Modena in termini di cultura, perché si va dall'archeologia all'arte antica, moderna, contemporanea, dal fumetto alla fotografia e poi le università, gli archivi, i teatri, le chiese, il patrimonio UNESCO, che è un patrimonio di valore straordinario, tutti, diciamo, in rete a concorrere perché la Notte Europea dei Musei illumini veramente di cultura la città. E tutti questi istituti culturali si basano ovviamente sulla ricerca, ma sono capaci, e lo saranno ancora di più in questa Notte, di socializzare la ricerca, quindi di dare una dimensione divulgativa alla ricerca e far sì che per il pubblico, per tutti i pubblici, sia un'occasione di esperienza e di scoperta e di conoscenza. Quindi da che ora tutto questo sarà, diciamo, a parte che appunto, ricordiamo, l'hai spiegato già molto bene tu, è evidente che i musei, gli istituti culturali saranno ovviamente tutti aperti fino a tarda notte, ecco, più o meno da che ora? Intorno alle 18 fino verso mezzanotte, con ingresso gratuito salvo diversamente specificato e ingresso libero anche in questo caso salvo diversamente specificato perché in alcune occasioni è meglio prenotare. Certo, quindi musei aperti, la cultura veramente che apre le porte e domani sera fino a tarda notte torna a dire. Poi, fra l'altro, la possibilità anche, diciamolo, di vedere mostre o di rivedere delle mostre, quindi anche questa diventa una bella opportunità. Sì, diciamo che parlando proprio di ricerca e divulgazione, le mostre ne rappresentano il risultato, ce ne sono tante. Ce ne sono tante. A me piace ricordare quelle che ci fanno riflettere anche su temi di grande attualità. Ad esempio, a Palazzo Santa Margherita c'è una mostra curata da Fondazione Modena Artivisiva, Embodiment, è una mappa organica che dà istruzioni su una ipotetica fine del mondo e queste istruzioni riguardano il vivere il presente e l'ascolto dell'altro. Alla Galleria Biper dipinti di nature morte del 6 e 700 rappresentano la cornice per riflettere su spreco alimentare e sostenibilità ambientale. E anche al Museo Civico la mostra su questo manoscritto decifrato di questo eroe risorgimentale dà l'occasione per riflettere sulla crittografia che ormai impronta tutte le attività del nostro quotidiano. Bello, davvero molto interessante. Dicevamo un grande ritorno, quello della danza, della musica. Allora, ballerini tutti quanti riuniti, addirittura leggo oltre 14 fra scuole di danza e associazioni, peraltro appunto ricordiamo anche la presenza di compagnie professionali. Raccontaci cosa potranno vedere e ammirare del mondo della danza. La cosa credo più interessante è aver creato questa rete da tre anni con le associazioni del territorio, quindi tutte le realtà, tutte le scuole di danza, da chi fa danza classica contemporanea, jazz, modern, ma anche afro, oppure tip tap, ma anche danze popolari, diciamo si esprimeranno in questa meravigliosa cornice che sono i musei. Non solo i musei, ma anche le piazze, per rendere questa giornata di festa, di rete, ancora più festosa e quindi per spronare un po' il pubblico a entrare in queste aree artistiche molto belle. Le scuole... Potranno vedere ballerini sia all'interno di un museo, magari anche appunto nelle piazze, quindi per la strada. Ovunque state attenti, osservate, perché poi saranno gli stessi ballerini che inciteranno il pubblico ad entrare nei luoghi, sempre che ci sia il posto per entrare, perché è anche un po' contingentato all'interno delle mostre. E 14, le realtà che poi sono arrivate a 15, perché poi in corsa qualcuno ha chiesto di potersi inserire, perché è difficile a volte intercettare tutti. Le compagnie professionali sono quattro quest'anno. Abbiamo la Vula Sulgane Physical Dance, che viene da Roma, che fa un lavoro infatti molto fisico, anche un po' acrobatico. Loro hanno lavorato non solo in Italia, ma anche all'estero, quindi sono riconosciuti. Poi abbiamo la compagnia di Luciano Cannito, del maestro Luciano Cannito, con Fabrizio Prolli, un beniamino, diciamo, delle folle, perché lui è uno dei coreografi di Viva Rai 2, con Fiorello, l'abbiamo visto tutte le mattine, con questi Wonder Boys. Sono otto ragazzi molto energici, bellissimi, molto pop. Poi abbiamo invece la compagnia di classico, il balletto di Verona, diretta da Eriberto Verardi, e abbiamo anche dei ballerini professionisti, come Alfredo De Meo o Ayman Ali, che è un danzatore di danza tannura, molto molto interessante. Poi abbiamo la KC Dance Company, di Bologna, con due protagonisti del mondo hip-hop italiano riconosciuti a livello mondiale, che sono Shorty e Bilbo, con un violoncellista, che è Franco Franchellucci, con musica dal vivo. Quindi credo che il programma sia molto 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 interessante. Meraviglioso. Una notte, sì, europea dei musei, ma una notte anche da sogno proprio, possiamo dire. Poi insomma la forza e il linguaggio della danza, vabbè, sono un pochino di parte. Vabbè, dai, lo dico, per 12 anni ho fatto danza classica, quindi mi fa anche molto piacere sentirla nominare e ricordare, perché è vero, faccio una domanda che non c'entra molto della scaletta. È vero un po' che la danza classica, dai, Didi sì, ti prego, è un po' la base di tutte le... No, no, certo, io sono assolutamente per una danza... Allora, io spiego sempre come nella pittura, no? Credo, perché non sono esperta. La tecnica è fondamentale. Allora, il pittore per me deve saper fare il paesaggio, il ritratto. Poi se decide di mettere un punto e basta, perché è una scelta artistica, io accetto. Ma se non mi dimostra di avere un suo percorso, una sua tecnica, sono un pochettino più scettica e così per me, anche per il danzatore, mi deve dimostrare di avere una base, un fondamento. Poi se si vuole destrutturare e andare solo per linee, lo posso accettare, può piacere o non piacere, ma deve avere una base. Oh, detto proprio da lei, eh ragazzi, critica di danza, operatrice culturale, quindi insomma mi fa piacere, grazie, perché insomma... No, no, assolutamente. Sono sempre un pochino nel mio piccolo battuto su questo aspetto, sono un po' di parte, dicevo. Milena, e poi ecco il momento anche del momento un pochino più fashion, però legato a, ancora una volta possiamo dire, alla natura, alle gemme che ci raccontano qualcosa e hanno dato a molti studenti, a molti giovani idee nuove per creare tessuti. Sì, questo è un progetto che l'Useo Gemma, che fa parte del sistema dei musei ortobotanico dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ha sviluppato insieme all'Istituto Catanio dell'Edda, indirizzo, figurati, Industria Artigianato e Made in Italy, ed è un incrocio di linguaggi, abbiamo visto tutti i linguaggi della cultura che così animeranno la notte dei musei, con il progetto Gem Fashion, che sarà in sfilata appunto con due turni, due fashion show domani sera, e abbiamo la fusione fra la moda e la scienza, quindi un modo per raccontare appunto elementi caratteristici dei minerali, i colori, le trame, i motivi geometrici che hanno ispirato questi studentesse e studenti dell'ultimo anno dell'indirizzo appunto Made in Italy, non solo nel creare gli abiti, ma addirittura nel creare i partner, cioè i colori e i motivi stampati sui tessuti, quindi veramente un arcobaleno di luci, di colori, di forme, che ovviamente si affianca poi alle altre iniziative del sistema dei musei orto botanico, perché sarà aperto il museo di zoologia come visite guidate, ci sarà un laboratorio per ragazzi curato dal museo di paleontologia e anche il laboratorio delle macchine matematiche. Comunque sempre questi sono aspetti scientifici che caratterizzano appunto i musei universitari, ma che vengono a essere raccontati con linguaggi vari e creativi. Ecco, fra l'altro possibilità di riprendere, questa mattina siamo partiti così, ma lo sapete che sono entrata anche un po' in corsa questa mattina, sono giorni che ho un po' questa tosse vigliacca che ogni tanto arriva, poi quando parlo di danza si vede che l'emozione, no in realtà è una scusa, ho proprio la tosse, ogni tanto questo succede. Però ecco, è molto interessante questo perché tra l'altro mi sembra di capire che poi ci sia anche un po' questa abbinata che tu già in parte appunto accennavi e a cui facevi riferimento, anche del concetto di diversità, quindi questi due elementi così importanti che si vanno a unire. Sì, assolutamente, perché parliamo sempre di biodiversità e in ambito geologico parliamo di geodiversità, cioè questa varietà meravigliosa che l'ambiente naturale ci offre e che in un qualche modo si è trovata ad ispirare, a conquistare anche lo sguardo di studentesse e studenti che si sono approcciati a museo scientifico spesso per la prima volta, quindi tra lo stupore, la scoperta, l'apprendimento, perché poi è una forma di educazione e di formazione e hanno elaborato dopo queste informazioni appunto il loro percorso creativo di fashion designer. Devo dire, fantastico, anche perché studentesse e studenti, gruppo docenti, esperti di moda in primis Carlo Barbieri e anche la filiera di aziende che ha permesso la stampa, il taglio, il tessuto, insomma è veramente un percorso complesso ma il risultato, devo dire, entusiasmante. Ecco abbiamo detto quando sarà, tra l'altro saranno 60 circa, dico bene, gli abiti a sfinare. 60 abiti, esatto, perché sono state tre classi quinte coinvolte e ciascun allievo e allieva sono riusciti a cimentarsi e a creare appunto una propria creazione di moda che non era neanche scontato perché questo è sempre stato il mio desiderio nel cassetto. Vederlo realizzato e vedere che comunque nonostante le difficoltà, tutti i ragazzi e le ragazze, anche alcuni con delle difficoltà, con dei disagi, sono riusciti ad arrivare all'obiettivo veramente anche per la scuola stessa e per l'indirizzo di industria artigianato che rappresenta è veramente un ottimo risultato. Certo, ecco la sfilata e fra l'altro avrà una durata di 30 minuti dalle 17, dico bene. Dunque la sfilata ha due turni, ore 18 e ore 20 ed è a prenotazione appunto come diceva anche Monica prima per questioni di sicurezza, di ingressi. Allora, ecco no, io ho detto 17 perché nel comunicato stampa ce l'ha scritto così, ok. Sì, dalle 17 il museo è aperto. L'apertura del museo perché giustamente tu dici poi diventa anche una bella occasione. Eh ma questo è meraviglioso perché ancora una volta si dimostra come l'arte, la cultura, la moda, poi diventino dei vettori per portare magari informazione, per smuovere, io dico anche un po' la curiosità perché magari insomma non verrebbe magari a tutti spontanei ad entrare nel museo appunto delle gemme, della gemma, ecco quindi insomma questo diventa molto molto bello. Ricordiamo forse che ecco per quanto riguarda la sfilata occorre la prenotazione, ecco in questo caso è bene prenotare. Quanti appuntamenti meravigliosi ragazzi, bisogna proprio, allora teniamo le energie mi raccomando oggi perché domani dalle 17 in avanti una giornata, una serata, una notte piena di appuntamenti. Di appuntamenti è anche interessante che ci siano tutta una serie di intrecci fra manifestazioni perché la manifestazione del bel canto si intreccia con la notte europea, ci sarà un concerto dei cantanti della Masterclass nell'Ala Nuova del Palazzo dei Musei. Alla Nuova che entra a pieno titolo nel programma della notte dei musei, non solo con questo concerto ma anche con il nuovo spazio immersivo a Via Pervia che grazie alla collaborazione alla rete fra gli istituti del Palazzo dei Musei è diventata la chiave di lettura del Palazzo dei Musei. Poi c'è la mostra di Franco Fontana, sempre nell'Ala Nuova del Palazzo dei Musei. Poi si intreccia col Festival della Giustizia Penale perché al diurno, all'ex diurno di Piazza Mazzini c'è una mostra sulle illustrazioni giudiziarie. Si intreccia con la Motor Valley perché a Palazzo Solmi c'è una mostra che coniuga moda e motori, insomma quindi sono tantissimi gli intrecci, sono tantissimi gli specialisti e non solo, anche gli studenti come abbiamo visto che si mettono in gioco. Ad esempio a Palazzo Santa Margherita si mettono in gioco 13 giovani artisti contemporanei per dare una rilettura in chiave contemporanea di un racconto di Antonio Delfini. Oltre agli studenti del Cattaneo dell'Eda ci sono gli studenti del Venturi che si mettono in gioco con le loro sperimentazioni artistiche in quattro sedi, due sedi via dei Servi, via Belle Arti e ai Musei dell'Uomo. E poi può capitare che sia il pubblico a mettersi in gioco perché nell'ambito di Play Festival del Gioco la biblioteca Poletti diventa il set di un vernissage esclusivo dove i partecipanti potranno improvvisarsi visitatori o critici d'arte. Bellissimo ragazzi, multidisciplinare soprattutto diventa veramente, è proprio una rete, una rete meravigliosa, insomma c'è da divertirsi soprattutto da smuoverli, continuo a dire, un po' anche quella curiosità che è così importante. Fra l'altro forse l'abbiamo detto, c'è anche il momento, però lo ripetiamo al massimo, il momento corale per quanto riguarda la danza, è vero? Sì, questa è la sera in piazza 20 settembre, dalle ore diciamo 20 e 30 c'è gli ospiti che sono venuti da fuori Modena, si esibiranno proprio perché così diamo l'opportunità a tutti di vedere queste perle, anche se tra le scuole modenesi quasi tutte sono eccellenti. Tra le altre cose noi abbiamo attivato una rete di social media manager che andranno in giro nelle varie location in modo che sui social, in diretta noi possiamo postare, fare vedere, poi noi negli anni abbiamo, in questi tre anni abbiamo prodotto come vedete molte immagini, abbiamo anche fatto dei piccoli trailer che abbiamo mandato che sono un patrimonio che resta alla città per promuovere determinati ambiti, ad esempio per l'archivio storico, giusto Cristiana, abbiamo fatto proprio un piccolo, come potremmo definirlo, 3-4 minuti di promo per illustrare questo ambiente che era molto piccolino per poter condurre all'interno le persone, l'abbiamo animato con la danza e ne abbiamo fatto un bellissimo promo che resta poi nel tempo... Anche perché la capacità di Monica è stata quella non di portare uno spettacolo dentro un museo, ma di creare uno spettacolo ad hoc dentro quel museo sulla base delle caratteristiche delle collezioni, degli spazi, dell'atmosfera, cioè non sono mai calati dall'alto. Esatto. Certo. Perché... Pensavo proprio poi anche comunque alla difficoltà immagino, è che... Beh, è un grande coordinamento perché abbiamo 13 location, quindi anche solamente in servizi tipo sicurezza abbiamo più di 25 addetti, noi dello staff siamo almeno 13-14 per coordinare, accogliere e quindi c'è una grande organizzazione. Era più il luogo che andava a influenzare il tipo di danza da fare? Beh, certo, perché la cosa bella è stata portare le scuole, gli insegnanti, molti di questi non erano mai entrati, io stesso ho conosciuto, cioè ero venuta a Modena ma non ero mai entrata in queste cose, in questi luoghi meravigliosi, in alcuni sì, in altri no, quindi tutti si sono, come per il progetto delle gemme, no, che è stato creato con un incipit preciso, anche noi dovevano vivere il luogo e adattarsi al luogo, creare qualcosa per quel luogo. È molto bello, poi secondo me è un po', mi verrebbe da dire, non dico l'unica, però è sicuramente una strada questa, come dicevo prima, per portare le persone in questi ambiti, in questi luoghi appunto di cultura, di ricerca anche. Ragazzi, per quanto riguarda l'esperienza della sfilata, del creare appunto i tessuti, come li hai, in qualche modo, li hai trovati, c'era curiosità, c'è voglia quindi di sperimentare? Beh, all'inizio un po' di perplessità, onestamente, perché comunque, come dicevo, non per tutti la visita ai musei, ai musei scientifici soprattutto, è una consuetudine, però strada facendo, soprattutto osservando, vedendo e non solo immaginando gemme minerali, ma proprio toccandoli, avendo la possibilità di viverli, a seconda della propria sensibilità e esperienza, anche radici culturali, perché l'Istituto Cataneo dell'Eda è una scuola multiculturale, quindi molto complessa anche in quanto realtà scolastica. E niente, dopo si sono appassionati e in modo orgoglioso domani sera racconteranno appunto, perché alla conclusione della sfilata di moda sarà possibile visitare il museo ed osservare da vicino alcuni di questi abiti raccontati direttamente dalla bocca, dalla voce dei ragazzi. Quindi praticamente vedendo queste gemme sono nate, sono nate anche dei tessuti, quindi anche appunto dicevi con il gioco di geometrie, perché insomma comunque non è facile, parliamo di due, passami il termine, materiali differenti. Certo, certo, per cui l'ispirazione si è basata su quella che è l'osservazione e la scoperta del minerale o della gemma che ha tratto allievo o allieva a seconda del colore, della forma, oppure anche delle leggende, delle storie, delle credenze, perché ci sono alcune tradizioni culturali anche di altri paesi che richiamano ad esempio la malachite, che è una gemma, una pietra semipreziosa tipica degli Urali della Russia, alla quale si legano fiabe, leggende insomma fantastiche e quindi questo, o alcune che sono portafortuna, muletti, insomma per cui c'è questo insieme, questa conoscenza scientifica che si lega appunto alle radici culturali dei ragazzi e che ha generato appunto e ha infatti individuare il minerale. una ragazza ad esempio è stata colpita, abbiamo una collezione famosa di meteoriti, dalle figure di Uttmestaten che sono una trama quasi di tessuto, una trama di disegni geometrici e perpendicolari che si incrociano tra di loro e che presentano soli meteoriti metallici quando trattati con degli acidi forti particolari. Questa superficie metallica riflettente attraversata da questa trama è stata quella che la studentessa ha elaborato per generare poi una geometria che ha riprodotto nel tessuto e poi ha generato, ha creato l'abito. Per cui anche delle cose davvero inaspettate perché devo dire dal punto di vista estetico ci sono altre cose che colpiscono di più rispetto a un meteorite che per me è fantastico da un punto di vista scientifico certo, però si vede che è bello. Per cui è stato anche un racconto che ciascun studente si è trovato a fare di quel campione, di quel reperto che ha scelto e che per me diventa adesso una narrazione ulteriore che darò di quel campione quindi un valore aggiunto, un patrimonio noi diciamo immateriale che viene ad aggiungersi al patrimonio museale. Possiamo ricordare, abbiamo un paio di minuti, poi farei chiudere magari appunto Cristiana però è giusto perché oltre a questa notte meravigliosa, l'avete capito dalle 17 tardo pomeriggio in avanti di domani sera, ricordiamo anche quando normalmente può essere visitabile il museo universitario, è possibile visitare? È possibile tutti i giorni, da lunedì al venerdì No, perché delle volte uno non lo sa Consiglio di scrivere una mail perché in modo tale da concordare la visita però è sempre visitabile è chiaro che è una difficoltà dei musei universitari e che non riusciamo per ora ad essere aperti i fine settimana Beh comunque insomma, ma poi no lo sai perché l'ho chiesto perché da domani sera verrà l'acquolini in bocca dopo verrà voglia di addentrarsi secondo me in tutti questi aspetti che state proponendo torno a dire di cultura in senso molto lato Cristiana lascerei chiudere a te o chi vuole aggiungere poi qualcosa che magari non abbiamo detto abbiamo ancora 4-5 minuti Beh io sicuramente richiamerei un esempio di diffusione insomma fra arte e danza che è la Chiesa del Voto La Chiesa del Voto è proprio il massimo Cioè la Chiesa del Voto che già l'anno scorso ha avuto un numero di presenze altissimo propone la musica sacra anzi la parte più pure, più antica della musica sacra i canti gregoriani che si fondono con la danza contemporanea Stupendo Tra le altre cose un lavoro proprio creato originale un coreografo importante si chiama Francesco Gammino di origine siciliana che lavora a Milano molto conosciuto ha realizzato per il gruppo professionale della scuola La Capriola questo lavoro che proprio è stato commissionato appositamente quindi è stata una bellissima commissione E poi volevo ricordare che insomma le iniziative sono per tutti cioè nel senso che ci sono anche le iniziative per bambini per piccolissimi al Momo di Piazza Matteotti al Museo di Paleontologia sulle pitture rupestri e i colori naturali e c'è uno spettacolo di Burattini questo è 099 al Cortile del Leccio con Arlecchino, Colombina e il dottor Balanzone e poi c'è Lupo Alberto e nella Notte Europea dei Musei non c'è solo Lupo Alberto ma c'è Silver e quindi è possibile incontrare sia il lupo più celebre dei fumetti sia il suo creatore il suo creatore beh molto bello, davvero gli ingredienti ci sono sicuramente tutti ricordiamo poi ovviamente per tutte quelle che sono le informazioni loro sono state bravissime però insomma io rimando è vero poi magari comunque sul sito ecco, fantastica Cristiana e addirittura la brochure comunque anche online è vero si trova tutto basta digitare appunto Notte Europea dei Musei nello specifico appunto quello che avviene nella nostra, nel nostro territorio Modena, l'invito però e siccome noi siamo regionali come trasmissione l'invito è ovviamente aperto a tutti quanti perché è davvero una grandissima opportunità di passare una serata, una notte di grande emozione, di grande cultura e poter fare anche proprio io dico insomma anche lavorare un po' la nostra fantasia la nostra creatività, la nostra curiosità grazie, grazie davvero grazie a voi